No, ma dai ma non può essere, non è possibile, ma che è questa porcata? Ciao amici, bentornati. Sono qui oggi per farvi un video su quelli che sono alcuni errori secondo me molto frequenti quando si tratta di fotografia. Sono errori che abbiamo fatto tutti, li ho fatti talvolta io, li fa talvolta qualcuno di voi, d'altronde qualcuno li deve pur fare perché siccome ci sono in giro qualcuno deve averli fatti, non si scappa. Andiamo a vedere quali sono questi errori e come si può fare per porvi rimedio. Primo errore gravissimo, imperdonabile, che preclude tutto il lavoro è scattare nel formato sbagliato. Questo può avere una miriade di significati. Vediamone alcuni. Innanzitutto dovete sapere che la maggior parte dei dispositivi, che sia una fotocamera professionale o che sia un telefonino, probabilmente vi dà la possibilità di decidere il formato con cui volete immagazzinare l'immagine. Per cui per esempio io vedo sul mio iPhone che ho la possibilità di avere un file che sia altamente compatibile oppure altamente efficiente. laddove per altamente compatibile si intende una fotografia JPEG o un file video H.264, stiamo parlando di formati che non sono obsoleti, però non sono i più efficienti a cui possiamo aspirare. Invece possiamo avere dei file che siano maggiormente efficienti, quindi avremo un file video che sarà un codec H.265 e un file fotografico che sarà H.A.I.C. Quindi sono dei codec, sono dei formati diversi che possiamo utilizzare per salvare i nostri file e ovviamente dobbiamo fare una scelta perché se dobbiamo andare a salvare memoria per avere più spazio magari opteremo per il file un pochettino più efficiente, mentre se abbiamo dei problemi di compatibilità sulle nostre macchine se abbiamo un problema di compatibilità sul computer su cui poi dobbiamo lavorare i file sceglieremo il file altamente compatibile per esempio, se no ci ritroviamo poi con un file che facciamo fatica a leggere e che non riusciamo a gestire. I problemi legati al formato non si esauriscono qui però perché molte delle nostre camere, quasi tutte per la verità ci permettono di scattare in formato RAW anche se non lo sappiamo per esempio anche un iPhone permette di scattare in formato RAW è sufficiente utilizzare un'app dedicata che ci permetta di estrarre il file RAW perché altrimenti il telefono tramite l'app della fotocamera ci dà direttamente il JPEG o comunque una foto già processata, già lavorata ma è possibile per esempio scattando con l'applicativo di Adobe Lightroom ottenere il file RAW che è possibile poi lavorare per avere una resa migliore è importante sapere questa cosa perché a seconda di quello che stiamo facendo potremo avere bisogno di quelle informazioni in più che il RAW ci dà se stiamo scattando un controluce per esempio la possibilità di recuperare le alte luci e di recuperare le ombre potrebbe essere molto importante per la buona resa del nostro scatto anche questo è un problema di impostazione della camera proprio prima dello scatto un'altra cosa che vedo succedere sempre più spesso che credo, cioè ormai è un trend, è così cioè la gente ormai scatta con il cellulare e scatta in 9 sedicesimi direttamente non ci pensano neanche a mantenere il formato 3 quarti che è quello preimpostato del telefono ora io non sono un amante del formato 3 quarti anzi volete sapere una cosa? non mi piace per niente il 3 quarti però noi dobbiamo guardare qual è il file d'uscita finale che otteniamo nel momento in cui noi scattiamo un file da 3 quarti quindi è una foto verticale abbiamo una foto che ha determinate dimensioni e questo dipende ovviamente dalla dimensione del sensore sul nostro apparecchio però facciamo finta per comodità che il nostro 3x4 sia 3000x4000 è plausibile, può essere una cosa assolutamente plausibile siamo sui 12 megapixel con 3000x4000 se ricordo bene una cosa del genere quindi è una foto normalissima che possiamo ottenere da qualunque dispositivo smartphone e anche da alcune fotocamere abbiamo il nostro 3000x4000 quindi questa è una fotografia standard nel momento in cui noi andiamo a dirgli di scattare i 9 sedicesimi che cosa succede? noi abbiamo l'impressione che la foto sia più grande perché chiaramente vengono eliminati tutti i comandi sulla parte bassa o alta del nostro monitor e la nostra foto sembra riempire il monitor per intero laddove prima era relegata solamente a una porzione di esso ma in realtà è proprio il contrario che sta succedendo noi non stiamo più scattando una foto che è 3000x4000 avremo sempre 4000 di lato lungo ma il nostro lato corto non sarà più di 3000 sarà di 3000 meno qualcosa quindi abbiamo perso delle informazioni ai lati ora per molti questo potrà sembrare comodo perché così la foto è già tagliata per farci le stories però abbiamo perso la possibilità di giocarci quello spazio extra nel momento della pubblicazione quello spazio extra avrebbe potuto significare sia avere una composizione migliore perché parliamoci chiaro il formato 9 sedicesimi fa schifo fotograficamente fa semplicemente schifo è orribile a livello video peggio ancora cioè il video dagli albori della storia del cinema si sviluppa in orizzontale per seguire quella che è la naturale disposizione dei nostri occhi quindi farlo in verticale e farlo sempre più sottile è una porcata è una cosa che non agevola la nostra biologia proprio ci obbliga fondamentalmente a guardare sempre con un occhio solo quindi personalmente la reputo una porcata nel momento però in cui dobbiamo andare a lavorare su questi maledetti dispositivi che sono tutti verticali ovvio dobbiamo lavorare in quel formato lì però scattare direttamente in quel formato lì significa perdere delle informazioni che al momento della pubblicazione potevano servirci per spostare la nostra composizione su una parte o su un'altra quindi è una cosa che secondo me non ci fa particolarmente bene se siamo dei fenomeni e siamo a conoscenza di questo fatto e sappiamo che dobbiamo scattare già la foto giusta come deve essere pubblicata è un conto però questo richiede della consapevolezza che il 99% degli utenti non hanno voi da questo momento ce l'avete perché avete guardato questo video a questo punto vi ricordo che su questo canale propongo sovente tematiche come queste legate appunto al mondo della fotografia del videomaking, del design e ormai anche dei social perché comunque fanno parte un po' di questo ecosistema per cui io a questo punto vi invito a iscrivervi sulla fiducia ma continuate a guardare il video fino alla fine per scoprire quali sono altri peccatucci fotografici che è meglio evitare passiamo a un'altra cosa che sembrerà normalissima però in realtà può comportare diverse problematiche ovvero nel momento in cui torniamo a casa con la nostra memory card con il nostro shooting scattato in RAW ovviamente una delle cose peggiori che possiamo fare la maggior parte delle volte è esportare le immagini direttamente in JPEG ora ben inteso se noi abbiamo terminato il lavoro e dobbiamo solamente consegnarlo al cliente postarlo sui social mandarlo a un'agenzia a metterlo su un'agenzia di microstock per vendere le immagini allora lì è pacifico che si esporti in JPEG perché l'immagine è finita e quindi il JPEG è la destinazione finale quindi non dobbiamo più lavorarlo nel momento però in cui la nostra immagine deve ancora subire una lavorazione ecco che esportare in JPEG ci penalizza moltissimo per almeno due motivi il primo è che ovviamente il JPEG è un formato compresso quindi nel momento in cui noi salviamo dal RAW al JPEG stiamo tranciando via un sacco di informazioni informazioni che ci potrebbero servire appunto in fase di lavorazione il secondo motivo è perché nativamente il JPEG supporta 8 bit quindi 8 bit di colore è uno spazio colore che va bene per carità va benissimo perché comunque è un prodotto finito che va bene per essere pubblicato ma potremmo avere qualcosa di più se lo stiamo lavorando e tenete conto che la maggior parte dei dispositivi fotografici nel momento in cui noi andiamo a scattare la foto stiamo scattando a 14 bit quindi non arriviamo a 16 nella maggior parte dei casi siamo tra i 12 e i 14 però comunque più di 8 quindi nel momento in cui noi salviamo e esportiamo in JPEG stiamo perdendo un sacco di informazioni sul colore se la nostra immagine è finita fa niente perché quelle informazioni che abbiamo nel JPEG sono quelle che ci servono ma se noi dobbiamo processarla nuovamente questa immagine se dobbiamo fare degli ulteriori fine tuning in Photoshop per esempio esportare a 14 bit avrebbe potuto fare la differenza tra avere un'immagine con dei colori slavati o comunque un'immagine che mostrava il fianco che tirava fuori degli artefatti in cui si vedevano dei bending orribili nel cielo e un'immagine invece elaborata a regola d'arte se vogliamo evitare questo problema quando esportiamo un'immagine e sappiamo già che dovremo lavorarla pesantemente in Photoshop non la esportiamo in JPEG la esportiamo in PSD o in TIFF personalmente preferisco il formato PSD perché generalmente pesa di meno quindi il TIFF è un formato vecchio è un formato di alta qualità che si usa spesso per la stampa diciamo che io tendo a consegnare un TIFF se mi viene richiesto per la stampa però non lavoro su un TIFF preferisco lavorare sul formato nativo di Photoshop che è appunto .psd quindi questo è il file che io vi consiglio di estrarre da Lightroom, da Camera Raw da qualunque software di editing del file fotografico grezzo se sapete già che dovete lavorarlo in Photoshop lo salviamo in formato PSD così succedono due cose la prima è che l'immagine non viene compressa la seconda è che continuiamo a lavorare in uno spazio colore a 14 bit Photoshop ci permette di salvare a 8 bit o a 16 bit noi salveremo a 16 bit il 14 bit non è supportato non esiste per Photoshop il 14 bit però se la nostra immagine è scattata a 14 bit e noi salviamo a 16 fondamentalmente abbiamo un 16 bit che non è riempito per intero ci sono due bit vuoti ma se noi invece andiamo a salvare a 8 bit abbiamo buttato via delle informazioni quindi è meglio salvare a 16 piuttosto che a 14 è molto meglio per quanto riguarda la lavorazione successiva che dobbiamo fare sul nostro file per lo stesso motivo è anche sconsigliabile salvare unicamente un JPEG nel momento in cui abbiamo esportato la nostra fotografia dal nostro file RAW la cosa migliore che possiamo fare è esportarla in PSD e archiviare questo PSD poi dipende da come lavoriamo se è uno shooting particolare, irripetibile io consiglio di tenere il file RAW tenere il file PSD e tenere anche il JPEG finale li teniamo tutti perché se è una cosa unica, irripetibile importante a cui teniamo conserviamo tutto il progetto se è una cosa easy per cui possiamo permetterci di buttare via serenamente il file RAW conserviamo almeno il progetto PSD oppure il contrario conserviamo almeno il file RAW insomma buttare via i file sorgente e tenere solo il JPEG è una cosa che sì si fa la faccio anch'io perché per carità la faccio quando sono straconvinto che un'immagine a cui non tengo particolarmente abbia raggiunto il limite massimo di lavorazione a cui può arrivare senza diventare una schifezza sono abbastanza sereno anch'io a buttare via i file sorgente però quando si tratta di una cosa a cui non tengo una cosa non importante per esempio un mio cliente pasticcere mi dice stiamo facendo i panettoni ci serve una foto da buttare su Instagram questa settimana perché stiamo facendo i panettoni ok io so benissimo che quella foto verrà buttata fuori questa settimana perché c'è quella ricorrenza lì che stanno facendo i panettoni in quel momento ma poi verrà buttata via cioè il cliente stesso butterà via il JPEG che io gli ho mandato io stesso le posso buttare serenamente magari quella foto potrà servire ancora l'anno prossimo perché ci saranno ancora i panettoni però a quel punto si può o riutilizzare la stessa e va già bene il JPEG oppure meglio ancora torno e gliela rifaccio è meglio per me perché così mi faccio pagare un'altra uscita è meglio anche per lui perché io non faccio mai la stessa foto quando torno un anno dopo te la faccio meglio mi invento qualcos'altro quindi è meglio per tutti quindi esistono dei casi in cui ovviamente anch'io ovvio che io non ho non ho dieci anni di archivio fotografico tutto conservato cioè mi esploderebbe la casa mi esploderebbero le macchine qualcosa bisogna buttare via e anzi è importante non accumulare roba bisogna saper buttare via le proprie foto quando una foto non è degna di essere tenuta o semplicemente in una serie ce ne sono altre migliori bisogna saperle buttare via perché non possiamo tenerle tutte se ci accumuliamo tutta quella roba diventa rumore di fondo siamo pieni di roba e non riusciamo più a discernere quelle che contano davvero quindi non voglio dire che va conservato sempre tutto però soprattutto se è un lavoro per un cliente o soprattutto se è una cosa nostra importante a cui teniamo io consiglio di conservare o il file RAW o almeno il file PSD posto ovviamente che il RAW sia stato esportato a regola d'arte perché se l'abbiamo esportato male e poi lì ci sono dei problemi se abbiamo cannato a esportare il profilo colore dal RAW ecco che immediatamente abbiamo dei problemi quindi bisogna anche fare bene tutto il processo però almeno uno dei due bisognerebbe tenerlo perché se dobbiamo vent'anni dopo fare una lavorazione successiva magari i software sono migliorati nel frattempo quindi possiamo fare cose che prima erano impensabili avere ancora almeno uno dei due file sorgente può darci una bella soddisfazione perché possiamo processarlo oltre dei limiti che prima non erano raggiungibili sempre parlando di profilo colore faccio riferimento anche a video che ho già fatto parlando appunto di spazio colore profili colore una cosa importantissima che vedo che non fa quasi nessuno è di utilizzare correttamente spazio colore profilo colore per lavorare le nostre immagini prima di tutto perché quando lavoriamo un'immagine utilizziamo uno spazio di colore di lavoro quindi uno spazio ampio nel momento invece in cui andiamo a stamparla o postarla sui social abbiamo due profili colore distinti specifici che servono per la stampa oppure per la pubblicazione su web è importante fare questa cosa perché se io non assegno del tutto un profilo quindi non gestisco il colore e poi il colore verrà gestito di volta in volta dallo stampatore che farà di testa sua dalla piattaforma social che farà di testa sua e quindi i miei colori non saranno mai come io li voglio mi dovrò sempre accontentare di quello che mi danno invece se io gestisco tutto il processo i miei colori saranno esattamente come io li voglio quindi i miei rossi saranno rossi ma come li ho scelti io i miei verdi saranno verdi ma come li ho scelti io i miei azzurri saranno esattamente il punto di azzurro che ho scelto io questo è importante perché il colore identifica il nostro stile e lo so che anche se noi sbagliamo a fare questo processo è pur sempre vero che se lo sbagliamo sempre nello stesso modo il nostro colore sarà comunque uniforme perché l'errore è sempre lo stesso però è un peccato non gestirlo perché è così facile portare a termine questo procedimento nella maniera corretta quindi è veramente un peccato lasciarlo non gestito anche perché noi magari non ce ne accorgiamo però chi guarda da casa si rende conto se c'è una cura maggiore in quello che stiamo facendo magari non ti sa dire in che cos'è però globalmente se ne accorge quando un progetto è gestito bene quindi è veramente un peccato tralasciare queste piccole parti che possono veramente fare la differenza a questo punto io vi aspetto qui nei commenti per farmi sapere se qualcuno di questi piccoli errori avete commesso anche voi se ne siete consapevoli se intendete continuare a commetterli nonostante adesso ci sia stato qualcuno che vi ha ricordato che così non va bene io vi faccio una confessione ci sono delle volte in cui io stesso trasgredisco alcune di queste regole voi per la fretta magari ho fretta e allora dico va bene scatto così con le ultime impostazioni che ho sulla camera non sto a controllare che ci siano il raw e il jpeg non sto a controllare scatto così perché tanto sono di fretta e tanto so che è una cosa poco importante capita anche a me quando mi dicono mi stanno tirando per la manica mi dicono dai fai una foto capita anche a me di farlo così con poca cura fidandomi di quello che avevo lasciato impostato in camera la volta precedente il più delle volte mi va bene non succedono mai disastri non c'è niente di irrecuperabile certe volte mi viene da pensare porca miseria mezzo secondo in più di attenzione la facevo un po' meglio questa cosa quindi sono cose che succedono succedono a tutti se noi abbiamo una formamenti se un'organizzazione tale da limitare il più possibile questo tipo di situazioni sicuramente portiamo il nostro lavoro o il nostro hobby se è per quello a un livello successivo e la gente che guarda il nostro lavoro non potrà fare a meno di accorgersene che una volta abbiamo migliorato questa cosa la volta prossima ne miglioriamo un'altra un domani ne miglioriamo un'altra ancora e tutto insieme stiamo costruendo una struttura di lavoro che non riuscirà a passare inosservata bene amici con questo è tutto io spero che queste piccole nozioni spero non troppo noiose vi siano servite a qualcosa spero che le applicherete nei vostri shooting e perché no anche sui vostri social o sulle vostre stampe e non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.